Viaggerà tra Palermo e Messina venerdì 27 ottobre il treno della prevenzione del tumore al seno. Anche per quest'anno infatti Trenitalia e Ferrovie dello Stato italiane, insieme alla Fondazione Incontradonna, con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la partecipazione dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, promuovono l'iniziativa Frecciarosa la Prevenzione Viaggia in Treno, che vede per tutto il mese di ottobre la presenza di medici e volontari a bordo dei treni per raggiungere un pubblico vasto e diversificato. Venerdì 27 ottobre Frecciarosa farà tappa in Sicilia con consulti a bordo del treno Intercity tra Palermo e Messina, confermate a Termini Merese, Cefalù, Sant'Agata di Militello, Capodorlando Naso, Patti, San Piero Patti, Barcellona e Milazzo. I treni interessati sono l'Intercity 730 in partenza da Palermo alle 10.15 con arrivo a Messina alle 13.10 e l'Intercity 723 con partenza da Messina alle 16 e arrivo previsto a Palermo alle 19.02. Questa edizione si è arricchita anche di un prestigioso riconoscimento, la medaglia del Presidente della Repubblica per l'alto valore sociale nazionale dell'iniziativa. Lo scorso anno sono stati coinvolti 25.000 viaggiatori, distribuiti 15.000 vademecum della salute ed effettuate più di 1.000 prestazioni a bordo treno. L'obiettivo del progetto è favorire attraverso una serie di iniziative la prevenzione del carcinoma mammario, il più diffuso nel nostro paese. Altra novità dell'edizione 2023 è la distribuzione del disco vaccinale, strumento di facile consultazione per la promozione di una cultura delle vaccinazioni ad ogni età. Punto di forza rimane sempre la distribuzione a bordo treno del Vademecum della salute, una brochure informativa per corretti stili di vita, mirata alla prevenzione oncologica. Quest'anno la brochure è stata anche tradotta in inglese ed è disponibile sul sito frecciarosa.it dove saranno anche previsti teleconsulti due giorni a settimana per l'intero mese.